L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con 17 voti favorevoli Partito Democratico, Socialisti, IDV, Rifondazione e 8 astenuti Fratelli d'Italia, Forza Italia, NCD, Udc e Comunista Umbro il disegno di legge dell'Aggiunta regionale che detta nuove norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Il testo individua strumenti a sostegno dell'informazione e dell'educazione del consumatore attraverso misure ed azioni utili ad aprire un nuovo dialogo tra Regione e Associazione dei consumatori, per la rappresentatività delle quali sono stati previsti precisi criteri e precise caratteristiche, prevista l'istituzione del registro e della consulta regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti. Tra le altre novità, la partecipazione dei cittadini al sistema di controllo di qualità dei servizi pubblici locali, prevedendo anche una conferenza dei servizi con la partecipazione delle Associazioni degli antilocali e dei soggetti gestori dei servizi per operare controlli e monitoraggi periodici sulla qualità, universalità ed economicità delle prestazioni dei servizi pubblici locali. Il relatore di maggioranza, Amaglio Mariotti, PD, ha detto in aula che con la legge si tutela il cittadino consumatore, puntando sull'educazione al consumo critico. Quello di minoranza, Alfredo Desio, Fratelli d'Italia, ha spiegato il voto di astensione dicendo che il testo innova una disciplina vecchia, ma lo fa con un approccio eccessivamente burocratico. Per l'assessore Fabio Paparelli, la legge è un buon punto di equilibrio che valorizza le effettive realtà consumeristiche esistenti rispetto a una giungla che rischia di essere deleteria per la tutela effettiva del consumatore.